Ho trovato che cosa? Ho trovato le persone più fortunate, le persone meno fortunate, un palcoscenico di esempi di vita però quello che ho trovato veramente è stata la voglia di vivere, la voglia di crescere, di migliorare ho trovato delle persone sorridenti, ho visto dei volti sorridenti, questo è quello che ho trovato Le emozioni che ho vissuto in questa giornata sono state tante quelle però che ricordo in maniera molto limpida sono la serenità, mi sono portato a casa la serenità mi sono portato a casa la gioia di vivere, mi sono portato a casa l'ammirazione per quelle persone che vivono in questa comunità che hanno veramente una voglia di riscoprirsi, queste sono le emozioni che Evolution From Day mi ha lasciato Lo consiglierei, sì senza dubbio, a chi lo consiglierei? A quelli che si svegliano la mattina con il grigiore della vita negli occhi lo consiglierei a tutti i genitori, io ho partecipato con mio figlio di 15 anni ed è stata un'emozione forte perché è un semplice motivo, perché probabilmente in questa fase della vita, l'adolescenza possono trovare delle situazioni difficili nelle quali non riescono ad uscire e si trovano in queste situazioni ancora più difficili per cui sì lo consiglierei a tutti i genitori, ma portateci anche i figli Il primo che mi viene in mente è impattante, di forte impatto, quello sicuramente Poi un avvenimento unico, un evento unico, l'unicità dell'evento Il terzo aggettivo potrebbe essere una vera giornata di formazione, ma per la vita